Nella notte i carabinieri di Palermo, su delega della direzione distrittuale antimafia, hanno eseguito 70 misure cautelari nei confronti di 5 diverse organizzazioni dedicate alla produzione e al traffico di sostanze stiluppacenti in l'area di Partimico, una zona della provincia particolarmente critica sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica. Il contesto è sempre quello mafioso nella gestione diretta dell'attività di traffico o nella mediazione e nel confronto tra le diverse organizzazioni. L'arma dei carabinieri punta alla disarticolazione dell'organizzazione dedita allo staccio perché è una delle costanti fonti di finanziamento di Cosa Nostra e togliere le fonti di finanziamento significa togliere il bacino di galleggiamento alla mafia, renderla più povera e quindi incapace di agire.